e salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nudio io sono forticello e oggi raga facciamo un runners contro treno però è una gara non è un LTS ragazzi avete capito benissimo quindi dobbiamo cercare di arrivare primi è come l'LTS che passa il treno ogni tot di minuti però è una gara appunto ecco va bene tutti svenuti non lo so il perché ma ma veramente ragazzi io sento il treno sento eh io sento il treno no ok no vabbè no vabbè no vabbè così di botto così di botto tutti morti no vabbè picco va vai veloci va vai no vabbè ma così di botto c'è la cosa bella è che tutti sono andati convinti senza manco sentire il treno che stava passando mamma mia meno male che sono stato più furbo ecco tanto qua passiamo eh attenzione che dobbiamo sbrigarci perché essendo questa un'attività mondata mi sa che il treno passa più velocemente rispetto alla normalità ok va vai subiamo questo stacco più veloce è un po' lentino personaggio superiare questo stacco di qua eh leggermente lentino ok ci siamo qua scavalchiamo eh in teoria qui in questa salita se passa il treno in teoria non ci prende in teoria eh essendo che è appunto una salita ragazzi una sorta una sorta di riparo ecco che qua scavalchiamo la panchina senza panchina ecco perfetto ci siamo che siamo come secondi emm cioè adesso l'ho notato eh come secondi come è possibile non dirmi che uno si è buggato col treno eh ok vabbè non pensiamo agli altri pensiamo ne stessi che poi ci perdiamo ragazzi eh questa cosa è strana eh perché perché c'è un bug che accade una volta che accade raramente cioè se ti prendi il treno c'è la possibilità che tu non muori eh cioè che ti prende però cioè ti 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 porta con con lui col treno però non muori ecco quindi regà non vorrei che è successo questa cosa qua con il primo che l'ha portato avvantissimo comunque visto che face il treno eh mi sa che io sento il treno sento eh e fa no vabbè poveri no vabbè poveri no vabbè no no oddio ok il treno ha fatto il frullato il treno va bene un frullato di sangue questo qua in qualche modo è sopravvissuto veramente vuole avere la sua fortuna ecco uh ok bello veloce eh non si ferma un attimo ok mi piace no terzi addirittura eh terzi addirittura non va bene questa cosa non va assolutamente bene questa cosa eh veloce questo qua regà non c'ha non perde tempo vuole vuole levare prima eh ok qua non si passa aspettiamo il segnale che si tolga dalle scatole perfetto veloci 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 ok passiamo di qua senza problemi infatti io non capisco dove è il primo eh perché io ho messo due giro ho messo eh perché pensavo fosse facile però mi sa che mi sono cioè mi sono ricreduto ecco ragazzi cioè comunque io non capisco ma il primo dove cavolo è perché in teoria essendo il primo doveva fare il giro cioè deve ritornare indietro eh essendo che si fanno due giri ragazzi eh ecco perfetto adesso devo andare all'incontrare appunto devo ritornare indietro per poi passare al secondo giro eh io non capisco ma il primero non l'abbiamo visto eh non lo so dove chi è non so nulla ecco non so nulla noi ripeto pensiamo noi stessi anche al treno che può passare da un momento all'altro devo anche stare un po' zitto così lo sento ecco eh non devo parlare tanto ragazzi qua passiamo di qua perfetto veloce prima che il segnale si metta in mezzo ci siamo va vai scavalchiamo questi paracadute va bene ok perfetto brava veloci veloci più rapidi che da mi sa e infatti e infatti infatti mamma mia in tempo in tempo mamma mia mamma mia oddio che fatto il devasto ha fatto il treno eh ho visto due cadaveri portarsi cioè ho visto due cadaveri con il treno appunto mamma mia follia questa attività eh cioè farla come gara da un effetto strano lo ometto eh da un effetto molto strano eh cioè sono abituato a farli in forma in formato di ETS farli come gara ripeto è un po' strano eh veloce che il treno passa il treno passa ogni tre bar a due minuti eh andiamo andiamo sbrigarci ecco comunque tutti che stanno quitando non capisco perché ebbè però un po' un po' si dai un po' li capisco perché c'è regala la sensazione di essere quasi arrivato al riparo e poi arrivare al treno ti fa sbloccare cioè non li capisco un pochino eh rimangio quel che ho detto prima rimangio e qua scavalchiamo ci siamo che in teoria tra poco passa il treno eh in teoria o forse no vediamo se riusciamo ad arrivarci in tempo prima che passi verso il secondo giro intanto qua due stanno va bene veloci io non sento nulla eh quindi possiamo andare in teoria eh perché ovviamente quando sta per passare il treno dobbiamo sentire o appunto il rumore appunto ok qua la panchina e ci siamo eh ma sbagliò la panchina era distrutta forse per il treno veramente GTA mi stupisce questo tocco di realismo così all'improvviso ok ok no veramente se passa il treno qua mi uccida all'ultimo non è che sbrocco faccio peggio ecco no ma ciò non è successo e avanziamo ragazzi vai secondo giro questo dobbiamo rifarlo semplicemente meno male che ho messo due giri perché è durata un pochino la situation eh cioè ci ho messo sei minuti quindi è fatto bene va rifacciamo eh non è detto che la prima ragazzi ma non manco meno aspettate vediamo se muoio se faccio così ma sicuramente ok ok ma vedete c'è la possibilità che mi posso buggare cioè non sono manco morto non mi chiedete come cavolo che ve l'ho fatto ecco ce l'ho fatta parlare tanto è morto è morto quanto mi dispiace per loro eh è appunto appunto acquittata appunto eh cioè la gente acquitta quando muore ok va bene va vai ci siamo ma è la primiera non per guffarmi contro ma mi sa che non ce la toglie nessuno questa bella prima eh mi sa che non ce la toglie nessuno perché il secondo in teoria è ancora è ancora al secondo giro infatti sì sì è quello là si è chiamato occhio va bene e mi sa che anche che siamo in due appunto no vabbè ragazzi vi giuro che questa attività l'ho avviata in 16 poi non so quando è partita dall'attività eravamo tipo in pochi forse sono casciati alcuni adesso siamo in due adesso veramente fa impressione attività folle veramente qua scavalchiamo i segnalini ci siamo eh io ci siamo ragazzi sto un attimo bevendo eh io ho questa abilità di bere mentre corro vabbè basta semplicemente eh tenere R1 ecco va va veloce più rapido più veloce che in teoria tra poco passa il treno in teoria si perché perché prima quando sono arrivato qua è passato però io non lo sento eh in teoria non lo sento quindi posso andare eh no ehi no ma raga raga ok ok ma raga non l'ho sentito ragazzi rieccomi qua comunque non l'ho sentito il treno vi giuro eh eccolo qua il secondo eh in teoria deve passare adesso ok no non è passato no io sento qualcosa infatti infatti sentivo un rumore infatti è passato vai vai aspettiamo che passi il treno e ovviamente possiamo andare aspettiamo volentieri anche perché non abbiamo molte soluzioni siamo costretti perfetto vai vai veloci eh tanto siamo in due euro cioè diciamo che la competizione si è spenta perché sono arriverò primero al cento per cento ecco eh qua scavalchiamo ci siamo veloci veloci che è un po' brutto farli cioè fare questa attività in due però fate conto che io ripeto quello che ho detto prima ragazzi l'ho avviato in 16 più di così non posso fare se la gente non c'ha voglia mamma neanche determinazione quando la prima volta che muoio quittano raga non è colpa mia se sono diciamo mogli ecco la gente che entra ci siamo eh infatti raga non per fare dissing ma ogni volta che faccio attività con gente che non conosco arrivo primo eh per farvi capire il livello adesso non voglio che è polemica diciamo però questa è la verità eh e ci siamo infatti si capisce non i video inizio video siamo in tantissimi poi alla fine video si è più in 5 non lo so raga per farvi capire il livello della gente che appunto c'è in sessione quando registro non è altissimo il livello perfetto ah no vuole fare tutto in una volta ma vabbè si può anche passare di qua come ho detto eh pian pianino ma stiamo proseguendo pian piano eh che tra poco dovrebbe passare il treno eh vai ritorniamo a quei gardini colorati in teoria passa là eh che perfetto che ripeto eh in teoria questa attività se nemmo data forse coincide sul tempo del treno quanto ci mette per ritornare cioè non so io sto notando che ragazzi ci mette subito eh aspettiamo non arriva nessun treno come è possibile intanto il secondo è morto no vabbè è morto all'ultimo ragazzi non li vedo affatto e adesso adesso scommetto che quitta eh scommetto un milione di dollari scommetto un milione di dollari intanto è passato il treno è passato e infatti no vabbè adesso quitta no 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 perfetto ha quittato ha quittato raga muore e quitta eh vabbè niente da essere in sedici in questo video sono rimasto da solo eh e vabbè che devo fare ragazzi la gente è così non posso farci nulla eh non posso farci nulla che devo fare e vabbè niente sono da solo vabbè l'unico sopravvissuto l'unico no in realtà no sono morto una volta quindi perché stavo per dire l'unico a essere sopravvissuto sempre al treno poi poi mi sono ricordato quando sono morto là in quell'occasione del gradino che il treno appunto non l'avevo sentito ecco qua scavalchiamo questa specie di non so che accessorio sia va bene vabbè proseguiamo eh questa attività è un po' vecchiotta l'ha creato il creatore l'ha creato nel 2019 questa attività il nome del creatore ragazzi non mi ricordo chi è ovviamente sono un disastro eh sì tanto pure la voce che mi sta sta andando eh e niente forte cielo c'è poca voce perfetto proseguiamo che adesso la situation è più tranquilla essendo rimasto solo io appunto quindi un po' normale che mi sto un po' rilassando essendo da solo in gara non c'è più gusto a massimo c'è quello di fare un buon tempo ma neanche cioè chi se ne frega la fine chi se ne frega la fine che manca pochissimo alla fine del percorso eh va questi ultimi ostacoli abbiamo completato eh va ci sta peccato perché non volevo mai morire appunto peccato per quell'occasione in cui prima non avevo sentito il treno appunto mannaggia eccolo qua il traguardo veramente da essere in 16 nel video o ad essere da solo veramente per farvi capire fa impressione cioè fa molta impressione ecco eh da 15 minuti ci sta va vai prendiamoci questa prima posizione obbligata perché siamo rimasti solo noi comunque sia se questo grande scontotreno a forma di gara di questo creatore di cui non conosco il nome vi è piaciuto a me è un botto lasciate un like iscrivetevi al mio canale se non vi siete iscritti seguitemi sotto i social e se volete entrare nella mia crew link in descrizione e noi ci becchiamo al prossimo video bella